Siamo all'ultimo incontro di questi primi passi nell'arte contemporanea, sono stati quattro incontri importanti, ringraziamo Jennifer Cenani che ci ha accompagnato proprio un po' per mano impostando tutto il discorso e anche dando, perché sabato eravamo a pranzo insieme, c'erano alcuni soci che hanno seguito queste quattro conversazioni e chiedevano a gran voce di continuare nell'anno nuovo con degli approfondimenti. Adesso ci lavoreremo sopra e ovvio le cose che propongono i soci e gli esideri dei soci per noi sono indicazioni di lavoro, di impegno, per cui ne prendiamo atto e vediamo poi come continuare questa carrellata, questi momenti. E però prima di iniziare, come diceva il Presidente Merito Paolo Berruti che stasera è già collegato, vogliamo la parola per un saluto proprio complessivo di queste attività PiaZoom a Feliciano della Mora, che è davvero il nostro Deus Ex Machina in queste cose. Un momento a te Feliciano e poi incominciamo la nostra conversazione. Grazie Antonella, grazie. Io ne approfitto per dire innanzitutto che questi quattro incontri, anzi tre, con quello di stasera fra quattro, sono stati molto interessanti. Abbiamo, diciamo, almeno io, ho appreso delle cose nuove che non conoscevo e quindi sono curioso di poter continuare il prossimo anno ad apprendere altre cose, sempre con l'assistenza della Jennifer Cellani che è molto brava, eccetera. Quindi, niente, io le lascio subito la parola e incomincio a fare gli auguri di buone feste per non perdere tempo dopo. Prego, grazie. Bene, allora Jennifer, a te tutto il microfono e tutta la serata. Un caro augurio, a dopo. Grazie, grazie a tutti, veramente. Benvenuti. Allora, conclusioni e prospettive. Abbiamo pochi slide, spero molto incisivi. La prima diapositiva è discorsiva, perché ho riscoperto un libro, Un vecchio amore, e vi spiegherò perché leggeremo alcuni brani insieme. Molti di voi, forse, scorgendo ogni tanto nel dibattito culturale così generale, avranno sentito della parola postmodernismo. È una parola ormai, diciamo, desueta nel senso che è entrata nella storia, ma rappresenta, se ho capito bene, perché è molto complesso guardare al nostro passato molto ravvicinato, un dibattito molto acceso, quando le prime opere artistiche, come quelle molto provocatorie alla Man Ray con la ruota di bicicletta, stavano entrando nelle sale dei musei e delle gallerie d'arte e nei dibattiti culturali. La Solomon Guggenheim Foundation di New York poi lancia nel 1970 una sfida. Mette in stampa gli atti di un convegno sul futuro dell'arte e fu tradotto immediatamente in italiano e diffuso, credo, tradotto in quasi tutte le lingue. Un libro delizioso da leggere dove c'erano tantissimi personaggi ormai storici. Leggiamo insieme quanto era acceso questo dibattito e quante diverse posizioni ci potevano essere nel dire, ma l'arte è morta, che futuro avrà? Cosa si può dire di più e cosa c'è da aspettarsi? Riferito poi a quello che noi vedremo, come ho promesso nel sottotitolo di oggi, alcune prospettive per il futuro. Allora, nell'introduzione Edward Fry dice, ancora prima della fine degli anni 60 era evidente che la crisi interna all'arte contemporanea aveva raggiunto una fase acuta, problematica, al di là di ogni sua precedente dimensione. E questo, polemiche e questioni critiche rimaste a lungo dormienti o risolte solo in parte, scoppiarono con nuova virulenza e la stessa funzione dell'arte, il suo stesso valore furono posti in discussione sia dagli artisti medesimi sia dai critici. Quindi questo è l'humus su cui sta crescendo in questo momento la nostra contemporaneità. Un altro saggio all'interno di questo meraviglioso libro. È un libro piccolo, si può leggere veramente con molta facilità. Lo storico Arnold Toynbee. Dovrebbe l'artista lavorare in primo luogo per la comunità oppure in primo luogo per se stesso? Quando Antonella Contardi, la nostra presidente, si è interrogata nel primo incontro su questo valore che ha l'arte, cioè deve servire a qualcosa o serve solo all'artista. Esiste almeno, dice Toynbee, un'alternativa che gli lavori per una, lo chiama consorteria, insomma per un gruppo all'interno della comunità, per una coterie che condivida i suoi sentimenti, i suoi pensieri e la cui concezione del mondo, vi ricordate Fabrizio Desideri, in generale corrisponde a quella dell'artista ma non a quella della maggioranza della società. Ed ecco che abbiamo le diverse ramificazioni dell'arte. C'è la pop art, c'è l'arte povera, che si combattevano, poi sono arrivati i minimalisti, poi questo e quell'altro. Benissimo. Ma viene interrogato anche il grande Herbert Marcuse. Se volete, Internet ha diverse biografie, cominciando da una molto esaustiva su Wikipedia, su questo grande pensatore. Del novecento. E il suo saggio all'interno di questo convegno, appunto questi atti del convegno promossi dalla Solomon Guggenheim Foundation, si intitolava l'arte come forma della realtà. E lui dice, poche chiacchiere, signori. L'arte non è un valore uso da consumarsi nel corso delle quotidiane vicissitudini degli uomini, qui un po' Freud. La sua utilità è di tipo trascendente, cioè in realtà non sappiamo neanche perché c'è, ma c'è. L'utilità per l'animo e la mente che non interferisce con il normale comportamento dell'uomo e non lo modifica realmente, tranne che per quel breve periodo di elevazione, di vacanza accolta in chiesa, nel museo, nella sala da concerti, a teatro, di fronte ai monumenti e alle rubine del grande passato. E dopo la parentesi, la vita reale riprende. Quindi immaginate questo turbinio di idee che scoppiavano di fronte alle opere provocatorie, ma anche non provocatorie, ma anche belle, che cercava appunto il mondo artistico di diffondere il più possibile in mezzo al pubblico. Ma nel frattempo c'era una fievole voce, la voce delle donne artiste, che già negli anni settanta gridavano, e questo è importantissimo per la nostra conversazione oggi, the personal is political. Cosa vuol dire? Il personale è politico. Cioè, in pratica il grido dell'artista donna apre paradossalmente da una quiete a questo dibattito acceso, perché non è semplicemente che l'esperienza personale è valida, ma può trascendere l'individuo e diventare pubblica. Quindi per political non si intende fazione politica o pensiero politico, ma polis, cioè può diventare una verità generale. La leadership femminile nel mondo contemporaneo stava aprendo la strada ad una maggiore libertà espressiva per tutti. paradossalmente, cioè una maggiore libertà espressiva, non provocatoria, espressiva. Cioè si stava cercando un linguaggio artistico, delle modalità espressive artistiche, non solo provocazioni. in pratica l'emancipazione sociale ed economica della donna aveva fatto sì che si emancipasse anche il mondo dell'arte, travalicando ogni produzione di genere in tutti i sensi. Questo lo tratto da un mio saggio perché appunto in Il femminile trascorre la storia, curato anche con Paolo Berruti, c'è un mio saggio proprio sulla figura femminile nell'arte contemporanea. che il mondo sia politico è sempre una verità. Il ruolo politico dell'arte c'è sempre stata, cioè politico nel senso di rappresentatività della comunità, cioè un pensiero che poteva essere diffuso in mezzo alla comunità e rappresentare il pensiero di quella comunità. Pensate appunto a capolavori assoluti dell'arte passata come Ambrogio Lorenzetti, gli effetti del buon governo e gli effetti del cattivo governo nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Siena. È un manifesto politico eppure per noi è un capolavoro assoluto dell'arte. Questa è una meravigliosa diapositiva del fondo Alinari. Appunto quindi anche Michelangelo è stato il suo pensiero per quanto meraviglioso dal punto di vista formale, per quanto potente dal punto di vista della cifra stilistica, per quanto è comunque un manifesto politico, va letto all'interno della dichiarazione di potere mediceo che lui stava rappresentando, con il pensiero filosofico e culturale assolutamente più alto possibile. Bene, quindi anche il personale può essere politico, cioè il vissuto può diventare un contenuto universalmente condivisibile. Sembra un discorso molto contorto, ma se avete un attimo di tempo di ripensare a quella slide dove il dibattito era su tante cose, cioè era sul contenuto, sull'espressione, era sulla funzionalità dell'arte, in realtà poi il fare femminile, che guarda molto all'interiorità del femminile come esperienza del vissuto, poi ha aperto la strada, secondo me, e ha emancipato sia il pubblico sia gli artisti. Dopo questa breve discrezione sul postmoderno, torniamo a noi, perché appunto volevamo concludere con quelle che erano le prospettive per il futuro, cioè dopo gli artisti classici che abbiamo indagato, adesso volevo vedere con voi le nuove frontiere. Le nuove frontiere che non sono poi sempre così nuove, nel senso che hanno comunque delle radici lontane qui, addirittura negli anni 90, con la nuova frontiera del cosiddetto post-uman. è un termine che è stato coniato da un grande curatore di arte contemporanea e critico americano nel 1992, addirittura ci fu una mostra al castello di Rivoli, dedicato al cosiddetto post-moderno, scusate, post-umano. E il post-umano è una revisione del concetto dell'uomo, cioè si esce dall'antropocentrismo dell'arte tradizionale per porre l'uomo non tanto al centro della discussione, ma vederlo in tutto quello che è le caratteristiche dei progressi tecnologici, delle scoperte scientifiche, dei cambiamenti e dei comportamenti, delle relazioni, le imminente catastrofi climatiche, eccetera, ma anche manipolazioni genetiche, interventi chirurgici, miglioramento del corpo, le terapie anti-invecchiamento. Insomma, il post-umano, che è un genere artistico che sta prendendo sempre più piede, è molto interessato a porre in questione questa eccessiva attenzione all'uomo nel reale, ma a superare il concetto dell'umanesimo tradizionale. Noi siamo ancora figli di quell'umanesimo. L'uomo, razionale, bianco, colto, proprietario, capitalismo, eccetera, messi in dubbio. E vi presento un'opera molto interessante di Yasamusa Morimura. Morimura è rappresentato lui stesso in questa realizzazione fotografica. È un cibacrom montato su tavola e si intitola Fratelli. Ma se lo guardiamo con più attenzione, richiama formalmente al grande Angelus di Milet, conservato al Musee d'Orsay di Parigi. Ma in realtà è agghiacciante, perché c'è naturalmente il fungo atomico che fa lo sfondo e le persone che pregano in questo momento, nel momento dell'Angelus, in realtà hanno delle armi micidiali di distruzione. Quindi il postumano è una corrente artistica molto interessante, a volte provocatorio, a volte anche un po' pesante, ma del tutto innovativo. Un altro esempio di frontiere, di prospettive, è l'uso del digitale nel cosiddetto formato NFT. Questo acronimo significa gettone non replicabile. Cosa significa? Significa che l'opera d'arte viene venduta attraverso dei meccanismi che bloccano la sua riproducibilità. Quindi si vende un prodotto video, ma non semplicemente un video come Bill Viola, ma interamente costruito con l'aiuto della intelligenza artificiale o addirittura con sofisticatissimi sistemi digitali di realizzazione. Un'opera che si trasforma davanti ai nostri occhi e che è realizzata ed è da conservare su uno schermo digitale, quindi su un computer, su quello che uno vuole utilizzare per godere la proprietà di queste opere. Qui vi faccio vedere una delle opere che mi aveva incantato di più, in una mostra Let's Get Digital al Palazzo Strozzi di due anni fa. Daniel Arsham è anche scultore. Qui ha utilizzato una delle sue sculture per creare questo NFT. E che cos'era il contenuto? Beh, vi faccio vedere come ci si metteva davanti all'NFT di Daniel Arsham. Cioè, godendoci di questa trasformazione digitale dell'opera, c'era questo meraviglioso busto romano che piano piano perdeva consistenza e si erodeva con il passare delle stagioni che si evolvevano sullo sfondo. Tutto realizzato esclusivamente con l'utilizzo del digitale. Alcuni NFT sono di straordinaria bellezza, altri sono un po' pesanti, cioè dipende dall'artista, dipende dal gusto, eccetera. Ma l'NFT sta prendendo sempre più piede. Un'altra prospettiva per noi è l'interdisciplinarietà delle arti. Ho scoperto leggendo e vi invito ogni tanto a dare un'occhiata per potervi anche aggiornare semplicemente. Io uso come aggiornamento, non è per fare pubblicità, ma per condividerlo con voi, la lettura del Corriere della Sera che esce tutte le domeniche. Ecco, ci sono sempre delle pagine, come anche all'interno della, mi sembra, anche della stampa, la lettura, forse si chiama Tutto Libri, dedicato alla lettura, ci sono sempre delle pagine dedicate all'arte, come anche l'inserto della Domenica del Sole 24 Ore. Cioè, veramente, possiamo ogni tanto aggiornarci su questo mondo contemporaneo che ci circonda, anche con mezzi molto semplici, molto diffusi della stampa. E ho letto, appunto, di questa creazione, quindi qui c'è architettura, arte, musica, effetti personali, effetti tecnologici straordinari, la cosiddetta sfera di Las Vegas in Nevada. Cioè, questa costruzione, la vedete, che è munita di luci LED che proiettano all'esterno delle immagini che riflettono quello che sta accadendo all'interno. E in questo momento noi stiamo guardando il fotogramma del concerto della band U2 che si era tenuto lo scorso ottobre a Las Vegas come, diciamo, evento di lancio di questo straordinario museo di se stesso dove appunto avvengono questi eventi, dove confluiscono tutte le arti. Quindi il performance art, la musica, gli effetti visivi, gli effetti tecnologici che poi in qualche modo assorbono, cioè avvolgono il pubblico da ogni là. Quindi una full immersion, pensate gli effetti anche sul nostro sistema nervoso centrale. Ecco, quindi io volevo condividere queste poche cose con voi perché il discorso della dove andremo in futuro può prendere più strade. Ma come vedete, la vecchia Gertrude Stein aveva ragione. La tecnologia è importante e quindi la condizione della generazione è dettata proprio da quello che quella generazione può manipolare per esprimere il proprio pensiero artistico. E noi siamo di fronte a una, diciamo, un futuro delle prospettive veramente straordinarie, non sapremo veramente dove andare. Ma per me anche The Sphere rappresenta un momento artistico perché è impensabile dire che è semplicemente diciamo intrattenimento all'ultimo stadio perché ci sono dei concetti artistici nella voler accompagnare la musica da immagini, immagini che devono poi interagire con la musica che viene suonato sul palcoscenico. Prima di iniziare il dibattito vi volevo salutare. So che sono brevi questi incontri ma la promessa è che in un futuro possiamo organizzare nuovi cicli. Sappiamo che l'arte non finirà mai e siamo curiosi di sapere come sarà nei prossimi anni. e volevo ringraziare veramente Feliciano della Mora di Univoca perché grazie all'Agorà del Sapere ci ha permesso tutti questi incontri in rete e quindi diciamo un arrivederci alla prossima volta con gli amici dell'arte e dell'antiquariato perché proprio grazie alla nostra associazione che viene promossa questa grande iniziativa. e grazie alla Presidente Antonella perché ha creduto in me e in questa sfida. Adesso volevo un attimo aprire il dibattito con voi perché credo che abbiamo ancora un po' di tempo e voglio che sia un dibattito acceso possibilmente e quindi abbiamo visto abbiamo fatto un cenno a tutto quello che ha preceduto il nostro era necessario diciamo precedere un attimino le nuove prospettive quella piccola incursione sul dibattito del postmodernismo perché il nostro past president è tornato a fare un vecchio dibattito ma ci tengo a leggere la sua domanda perché è importante per noi perché ricordatevi l'arte cresce da generazione a generazione e si innesca sull'arte della generazione precedente. Allora Paolo Berruti nostro past president si dice ma perché mai si è perso il figurativo che era già entrato faticosamente nella storia dell'arte con le pitture murali di Lascaux sappiamo benissimo si fa iniziare l'arte con queste manifestazioni di pittura murali all'interno delle caverne perché da questi graffiti siamo passati per la pittura di Filippo Lippi e di Raffaello Paolo è un amante di tutto questo periodo rinascimentale Filippo Lippi, Botticelli il figlio filippino per passare poi al più grande pittore di tutti i tempi che è senz'altro Raffaello Sanzio per giungere all'astrattismo moderno ad esempio di Jackson Pollock e di Mark Rothko e poi ai processi visivi dell'arte contemporanea come quella di Anish Kapoor e vi ho messo la fotografia di questo incredibile installazione di Anish Kapoor al Pirelli all'Anchard di Cocca se non erro e se non era lì era un'altra di queste zone di Milano io sono entrata in quel tunnel per esperienziare questo processo visivo che è tipico dell'arte di Anish Kapoor e vi assicuro che è stata veramente un'esperienza unica nella mia vita quindi la domanda è perché abbiamo perso il figurativo? e poi provocatoriamente vi chiedo ma l'abbiamo veramente perso? perché oltre alla domanda che fa Paolo ho letto qualche anno fa un'interessantissima intervista al grande Massimo Recalcati lo ammiriamo tutti come psicologo anche come divulgatore televisivo come scrittore e Massimo Recalcati dice la stessa cosa che dice il nostro Paolo Berruti cioè dice lui lamenta la perdita del dipinto come riflesso della realtà perché poi tutto il gioco su quel libro che è la raccolta degli atti del convegno promosso dalla Guggenheim Foundation era quello cioè perché l'artista ha perso interesse a rappresentare la realtà lo diceva anche Gertrude Stein vi ricordate nell'Ottocento l'artista aveva capito che doveva per forza avere un modello davanti a sé per poter dipingere nel secolo successivo hanno capito che l'unica cosa che non dovevano fare era avere davanti a sé un modello quindi per tornare all'intervista di Recalcati lui condanna Paolo condanna Rolf dice che appunto la pittura muore con Giorgio Morandi l'ultimo figurativo della pittura italiana e parla appunto di usa gli stessi termini che usa Herbert Marcuse in quel libro che futuro ha all'arte perché parla dell'elevazione dell'oggetto artistico l'elevazione dell'oggetto artistico a dignità di icona icona ma per un amante di arte contemporanea e icona anche un dripping painting di 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 Pollock soprattutto quello che ha il Guggenheim di Venezia uno dei pezzi più belli mai visti ma anche le grandi pitture di di Roth e quindi e poi dice appunto non nessuno dipinge più nessuno dipinge più anche i grandi possono sbagliare ve lo dimostrerò fa poco però prima volevo tornare a questo dibattito su perché abbiamo perso il figurativo per un breve periodo di tempo o anche adesso con questa diciamo arte che usa i processi visivi come il grande scultore Anish Kapoor c'è qualcuno che vuole rispondere? io non so perché si è perso il figurativo alla domenica andando in giro trovi molte persone che con il loro cavalletto si mettono lì e dipingono dipingono ciò che vedono come persone per bene normale che dipingono il figurativo dell'albero delle persone e quindi io le sento veramente vive partecipi non capisco perché debbano avere l'ostracismo di pseudo profeti o di falsi tabù o di queste pseudo intelligenze pseudo raffinate di dire non è questa l'arte perché a questo punto chiederei alla nostra autrice che ci dica che cos'è l'arte perché qualcuno ce lo deve pur dire bene e Paolo forse ti ricordi che all'inizio abbiamo cercato una definizione di arte ci ricordate ecco quindi il modo di rappresentare il mondo non deve essere sempre un processo di riflesso della realtà quando Kandinsky scrive la spiritualità dell'arte intendeva proprio cercare all'interno della sua stessa immaginazione delle forme rappresentative a un certo punto siccome l'arte che comunque è espressione politica nel senso di polis cioè di una comunità molti artisti formati nelle grandi accademie hanno comunque scelto di uscire da certe costrizioni se vuoi accademiche se vuoi sociali se vuoi anche come riflesso contro un certo pensiero estremamente diffuso borghese e cercare nuove ispirazioni scavando dentro se stessi questi processi sono difficilissimi e se l'azione di Jackson Pollock provate a replicarlo non è facile non è assolutamente facile perché comunque questi quadri quando li si contempla trasmettono una profondità un senso ci si perde dentro ma non c'è assolutamente niente di male in realtà è un utilizzo della della materia pigmentata per esprimere un proprio sentire interiore io sto cercando di semplificare ma non ci vedo assolutamente niente di male e la stessa cosa vale per i grandi pannelli in colore queste campiture di colore di Mark Rothko tolgono il fiato e non c'è nessuno che sia riuscito ad imitare questa pittura e renderla identica a questi due figure iconiche dell'arte astratta io non sto cercando di difendere l'astrattismo sto solo cercando di spiegare che il discorso postmoderno era proprio tornare indietro e analizzare questi processi cioè come mai appunto abbiamo perso il figurativo e però il figurativo non si è perso anzi anzi e ve lo ve lo dimostro e mentre Recalcati scriveva la sua intervista in realtà non sapeva che cioè ignorava il fatto che purtroppo l'arte contemporanea in quell'epoca aveva del figurativo di enorme enorme valore se volete vado avanti e poi torniamo al discorso dell'astrattismo torno un attimo poi indietro guardate che figurativo abbiamo prodotto da artisti o recentemente scomparsi o ancora in vita perché alcuni di loro come vedete ho messo solo la data di nascita ma pensate al contributo di Lucien Freud lui dipingeva caro professore Recalcati dipinge olio su tela e David Hockney vogliamo parlarne il grande splash e la stessa Marlene Dumas guardate qui c'è il ritratto straordinario della sua bambina che ha le manine intrise nella pittura perché un'estate voleva stare con sua madre e aveva deciso di mettere le manine dentro le boccette di pigmento che la madre aveva e lei ha rappresentato sua figlia in questo modo questa tela straordinaria per la sua potenza ma continuiamo vogliamo parlare ancora del figurativo caro professore Recalcati Chuck Close vogliamo parlare del grande Chuck vogliamo parlare di Alex Katz e la Alice Neel che qui rappresenta la Linda Nocklin buonanima quando era giovane con la sua stessa figlia e per favore guardiamo ai grandi paesi che adesso stanno tirando fuori i paesi emergenti come il continente africano i paesi africani e la Cina che sta tirando fuori degli artisti di straordinarie capacità e queste sono tutte opere in olio su terra quindi anzi addirittura torno un attimo indietro il grande Alex Katz spesso e volentieri usava la sua musa come modella la sua adorata moglie Ada di origine italiana pensate aveva addirittura non solo non solo usa olio su tela quindi il figurativo c'è e la pittura sulla superficie in tela c'è vive e sta bene ma addirittura usava per alcune delle sue perché sono grandi queste tele coprono metri e metri di parete usa il sistema dello spolvero cioè addirittura il sistema tradizionale perché lui crea un bozzetto piccolo e poi lo ingigantisce con il sistema della cronatatura e poi addirittura usa il sistema dello spolvero per riprodurre poi le opere nel grande formato che lo ha sempre caratterizzato e c'è Close che fa questi effetti straordinari per cui a distanza uno non si rende conto che è tutto composto da questi tanti quadrettini che l'artista ha inventato quindi sì è vero abbiamo perso per un certo periodo di tempo l'astrattismo non ci lascerà l'astrattismo ma forse non ha mai voluto lasciare l'uomo perché sfido chiunque a pensare che mentre un artista pensava a un monumento funebre non si mettesse lì a gingillare sulla carta nel suo studio comunque per rispondere a Paolo vorrei fare un'ultima considerazione con voi poi veramente vi lascio parlare uno degli aspetti più importanti del dibattito postmoderno era quello della critica alla pop art che è iniziato diciamo negli Stati Uniti con soprattutto con il suo apice è stato raggiunto dalla figura di Andy Warhol Andy Warhol aveva colpito una persona come Arthur Danto che è un filosofo nel vero senso della parola uno dei più autorevoli critici d'arte che trascende quasi la filosofia nelle sue scritture e lo trovò anche molto difficile da leggere non so voi che nella nella sua opera oltre il Brillo Box vedete questa scatola che era la scatola per l'impacchettatura delle spugnette abrasive di alluminio uno dei capisaldi dell'arte pop di Andy Warhol secondo Danto appunto con Brillo Box è il discrimine storico-artistico di una nuova era in cui ogni cosa si poteva convertire in arte quindi Paolo addirittura si supera l'astratismo con il sistema Hop di trasformare come i ready made di Man Ray e di Duchamp scusate Duchamp la scatola di imballaggio delle saponette abrasive e Danto riprende infatti la tesi del procedere dell'arte al di là di se stessi già formulato pensate dal filosofo tedesco Hegel che di fatto aveva introdotto nel dibattito filosofico il problema della morte dell'arte o della fine dell'arte nell'Ottocento quindi che cos'era l'arte e l'arte che amiamo o noi è l'arte che celebra una comunità o celebra una potenza o inneggia all'intercessione divina perché una delle cose più belle che noi ammiriamo nei nostri musei sono il frutto del grande movimento dell'arte sacra dove appunto venivano rappresentate le figure dei santi perché erano la cura dell'anima dell'uomo l'intercessione del santo per noi è la medicina di oggi all'epoca era il santo che poteva proteggere ogni tua azione e ogni tua vicissitudine di vita e quindi non è una rappresentazione della realtà è la rappresentazione di queste immagini dell'arte sacra perché aveva una funzione per il devoto ma questo dibattito potrebbe andare avanti per ore e ore e ore l'astratismo è la liberazione dalla arte come riflesso della realtà realtà nel senso della realtà esterna formale fenomeni quello che noi abbiamo davanti oggettiva ma nulla nessuno può dire che non sia una forma artistica solo perché non rappresenta un corpo umano nello spazio Paolo i nostri amici concordo cioè il pittore della domenica per me nel suo piccolo sta cercando di creare arte come tale vuole dire delle cose non è che non dica niente al di là di questo cerca l'infinito in modo a modo suo molto più che in una tela di burri o in una scatoletta di brillo quindi in questa diversificazione dell'arte c'è sempre l'uomo non dimentichiamoci che c'è comunque sempre l'uomo che ha bisogno di esprimersi e di dire la sua altrimenti non c'è arte senza l'uomo e non c'è l'uomo senza arte possiamo dire così in fondo sì però ecco tu che sei un uomo che capisce la psicoanalisi e il valore della scoperta dell'inconscio da parte di Freud l'arte astratta pesca molto nell'inconscio cioè libera pulsioni ecco l'arte astratta libera pulsioni è arte allo stato puro secondo me quando è grande è astratto è chiaro bisogna distinguere bisogna conoscere bisogna studiare e non è facile poter dire che tutta l'arte astratta è arte ma in certi casi lo è e lo è veramente forte perché insomma secondo me l'arte astratta esprime proprio l'inconscio e il pescare dentro dentro di noi qualcosa per rendere una forma per dare forma a questo mondo come diceva Desideri che vogliamo sempre cercare di ricreare e Jackson Pollock era egli stesso una specie di strumento dell'arte mentre dipingeva hanno hanno fatto hanno scritto volumi sull'action painting di Pollock inimitabile inimitabile secondo me non c'è pittore che possa che possa replicare le sue le sue creature e la stessa cosa vale per per Mark Rothko che in questo momento è a Parigi in una splendida chi chi vuole fare un salto a Parigi a vedere Mark Rothko mi hanno detto che è veramente una una mossa sorprendente non vorrei deludere la nostra conduttrice ma non credo che Freud abbia parlato dell'arte dell'inconscio nella forma attuale come viene trattata no 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 assolutamente non avrebbe potuto cronologicamente storicamente immaginarlo ma ha seminato ha seminato ma ha seminato ha seminato pensa al surrealismo che precede l'astrattismo moderno il surrealismo è pescare nell'onirico il grande Salvador Dalì non è astratto per carità sì sì è il pasto precedente ma è è onirico metafisico trovo più difficile invece il discorso che fa Arthur Danto sui Brillo Box Brillo era il nome commerciale di queste appunto saponette abrasive che noi tutti usiamo in cucina oggi e è la provocazione di Andy Warp la provocazione di Andy Warp vi faccio vedere vi faccio vedere io che cos'è l'arte e voi ci cascherete tutti ma lo scriveva anche è vero ma il discorso della provocazione non mi coinvolge così tanto non basta cercare la provocazione per fare arte l'arte è una cosa un briciolo più raffinata e ricercata la provocazione può essere qualunque altra cosa e dare un calcio nel sedere al presidente della repubblica questa è provocazione però non mi sembra granché ecco ma il critico Danto sarebbe d'accordo con te il critico Arthur Danto sarebbe d'accordo con te e beh va bene sono in buona compagnia la provocazione è una cosa un po' più raffinata è un po' più tra il cerebrale e il concreto ma come li chiamiamo tutti i pittori della domenica che vengono dispregiativamente chiamati così e sono quelli che poi mandano avanti l'arte abbiamo tutti in casa dei quadri dei pittori della domenica dispregiativamente chiamati così mentre invece fanno delle cose molto pregevoli altrimenti non le compreremo e quindi su questo discrimine qualcuno ci dovrebbe dire qualcosa se no rimaniamo un po' confusi è giusto io avevo insomma per quanto poco ci possa capire di alcune cose mi sono ho provato a farmi un po' un pensiero no io sono d'accordo e penso che sia anche giusto che nella contemporaneità ci sia un po' di destrutturalizzazione dell'arte intesa come arte classica tra virgolette per come la concepiamo noi ma perché è come dire è un po' l'evolversi delle cose sempre nella ricerca continua di un qualcosa che debba sempre essere tra virgolette un po' più estremo e seguire un po' il filone culturale che attraversiamo ma anche proprio un po' come sfida stessa che l'umano si pone quindi secondo me è un po' infinita cioè io la vedo e cerco di interpretarla un po' così per quanto io non so sono un po' dell'idea sicuramente mi sbaglierò che si degenererà talmente tanto che poi avremmo terribilmente bisogno del concreto che forse poi un giorno torneremo a quello che di fatto sono un po' non dico le nostre radici però i punti fermi su cui poi forse l'arte davvero ha iniziato a concretizzarsi ad evolversi io la vedo un po' questo è il mio personalissimo pensiero grazie e per concreto cosa intendi Matteo? concreto nel senso all'arte forse un po' più figurativa che ne so o piuttosto quelli che potrebbero essere anche solo banalmente i dettami del rinascimento no? perché non lo so io a volte faccio un po' magari sbagliando dei paragoni un po' sullo stile dei mobili perché è un po' la cosa su cui forse sono un po' più ferrato e si è partiti col barocco si è degenerati col rococò però poi si è tornati al neoclassico e non lo so io la vedo penso e credo che le cose possano andare anche un po' in quella direzione lì è tutto bello tutto bello sicuramente farà piacere avere delle installazioni in casa proiettate però poi la materia ha sempre il suo sapore e il vittorio della domenica ha sicuramente il suo sapore e avrà sempre il suo sapore e arriveremo a un punto in cui forse tornerà ad avere un sapore fantastico però nella nostra evoluzione umana è giusto che secondo me alcune cose accadano perché fanno parte dei nostri processi evolutivi quindi sono indiscutibilmente giusti certo ora no no ma è giusto quello che stai dicendo e penso che a monte di tutto questo ci sia anche mi permetto di dirlo ma è una raccomandazione che faccio a tutti bisognerebbe esporsi un po' di più all'arte contemporanea cioè cogliere quelle occasioni per andare a vederla per giudicarla e per conoscerla perché c'è un mondo veramente molto vasto là fuori e probabilmente quello che cerchi è là fuori ma bisogna andare a cercare per dire adesso non so a me piace un sacco Arnaldo Pomodoro benissimo onestamente perché mi piace non lo so però quello che mi comunica mi comunica e mi basta perché mi piace io sinceramente sarei ben contento di mettermi una scultura in casa sua Valentina sicuramente no perché perché mi piace perché i volumi le ombre questo questa materia l'attenzione l'attenzione c'è tensione nella sua materia c'è molta attenzione molta forza certo 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 però onestamente perché mi piace non lo so nel senso mi piace basta e a me basta quello onestamente cioè arriva e fa il suo mestiere benissimo altri altre osservazioni altre persone che vogliono unirsi a questo a questo scambio di idee se vi è piaciuto eh ti ti no no ma allora intanto tutto interessante mi viene in mente il nostro artista torinese Riccardo Cordero che è uno figurativo perché le sue sculture assolutamente erano leggibili a un certo punto è iniziato a fare quelle forme che propone attualmente e lui la lui diceva eh mi sono evoluto non ho più bisogno della forma sì 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 forse il problema è che forse gli artisti si sono evoluti perché perché avevano anche forse bisogno di andare oltre a un'arte all'arte imitativa a un'arte che peraltro ha tutto il suo la sua dignità e il suo rispetto mentre noi non forse noi non ci siamo evoluti altrettanto o comunque forse noi non preferiamo l'arte della domenica perché c'è più consola perché ci piace cioè io capisco Matteo che dice a me ma Pomodoro piace punto ma l'arte anche l'arte antica in qualche modo ci piace ci emoziona indipendentemente poi dal dal saperla decodificare dal saperla studiare dal saperla descrivere per cui di fatto l'arte contemporanea quando piace ha centrato il suo il suo obiettivo secondo me e soltanto che l'arte contemporanea per noi che non abbiamo ancora forse tutta la capacità e le modalità di interpretarla non sempre ci piace o tante volte ci troviamo anche un po' perché Pomodoro è un signor artista ma quando vedi questi video che prima fanno tutto andare veloce poi fanno andare tutto piano poi fanno andare e uno dice ma cioè ma mi sta prendendo il solito problema ma che cosa vuole da me vuole provare la mia pazienza vuole prendermi in giro cosa vuole lo faccio anch'io no il solito poi finale sarei capace anch'io farlo intanto poi non è vero perché non l'abbiamo pensato prima no per cui non è così però si prestano l'arte contemporanea si presta a essere un po' contraddetta e poco amata per questo suo aspetto che non che non capiamo che forse non leggiamo neanche come trasgressivo come diceva Paolo la trasgressione dovrebbe essere qualcosa di meno banale no di far vedere un video a una velocità tripla o poi rallentatissima però sicuramente forse il superamento della forma è proprio è proprio il percorso che sa da fare qualche modo sì ecco però Antonella attenzione cioè i video rallentati di Bill Viola sono dei capolavori assoluti non è il video rallentato è un'opera d'arte realizzata con una tecnologia di altissima definizione che ti dà la sensazione di partecipare a un evento artistico davanti a te e lui non sta cercando il sensazionalismo e lui ha inventato ha letteralmente creato un nuovo genere artistico quello a cui fai riferimento tu cioè l'utilizzo della video art nell'arte attenzione io sono d'accordo con te c'è tanta banalità c'è tanta banalità e c'è anche tanta imitazione dei grandi quindi il processo artistico oggigiorno per fare un paragone con il rinascimento è altrettanto faticoso e duro quanto lo è stato nel 3-4 100 perché richiede una tale preparazione per poter creare o qualcosa di nuovo perché in realtà è quello che sta succedendo ecco mi state aiutando ed è per questo che si chiama proprio introduzione attiva all'arte contemporanea rispetto al passato non c'è l'imitazione imitazione c'è proprio il cercare il nuovo e ogni artista ha una cifra nuova e chi emerge emerge perché ha inventato una cifra nuova che ha successo sul pubblico ecco questo non succedeva nel rinascimento era esattamente il contrario si cercava di imitare i gradi tant'è che poi c'erano le collaborazioni fra le porteghe c'erano i passaggi dei cartoni e degli schizzi preparatori Michelangelo era gelosissimo dei suoi bozzetti preparatori e li faceva bruciare piuttosto che non farli circolare perché voleva essere unico e questo poi continua con il 500 il 600 con il 700 e l'imposizione dell'accademismo cioè della preparazione accademica dell'artista cioè non si poteva diventare artista se non era dunque diplomato ecco che poi incomincia il dibattito perché già con il 700 come diceva Matteo c'è il rococco che rovina tutto rovina tutto nei mobili ma risponde ha una grande esigenza delle corti però già con la pittura settecentesca incominciamo a vedere una grande suddivisione di generi che prima non c'era e poi poi scoppia l'accademismo per eccellenza nell'800 con i generi con questo e con quell'altro quindi insomma c'è un'evoluzione ma l'arte contemporanea adesso richiede una selezione terribile c'è una concorrenza fra gli artisti che non che non c'era in precedenza perché bisogna tirare fuori sempre qualcosa di nuovo e non si può imitare l'altro e chi imita non non colpisce non vende bisogna sempre cercare delle nuove cifre e per per tornare a questo discorso e poi vi lascio perché sono le 10 e vi ringrazio ancora Paolo il pittore della domenica ha trovato molto consenso nel pubblico già i nostri due giovani consiglieri erano con te nulla di di male nell'imitare la la realtà e come ho dimostrato con i grandi ritrattisti del nostro del nostro oggi del nostro quotidiano la realtà si continua ma ancora a replicarlo è soltanto che i grandi artisti trovano delle cifre stilistiche proprie guardando e lavorando interiormente lavorando con se stessi con la propria interiorità riescono a tirare fuori delle cifre artistiche di straordinaria originalità ma imitare ritrarre ritrarre il prossimo è ancora una 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 meravigliosa pratica quindi nulla di male nel guardare ancora alla realtà esterna è soltanto che non bisogna semplicemente con un colpo di spugna dire che l'astrattismo è stato un brutto un incubo perché ha liberato ha liberato tanto l'artista ha fatto tanta scuola tantissima scuola bene e siamo d'accordo con te che l'astrattismo ha un suo senso se c'è qualche altro intervento di qualche socio che vuole ancora aggiungere è benvenuto se no davvero io ringrazio tantissimo Jennifer della pazienza con cui ci ha condotto fino a qua e auguro a tutti delle belle feste natalizie un buon inizio anno e soprattutto un buon inizio anno associativo appena riprenderemo le nostre attività grazie Jennifer grazie Feliciano grazie presidente merito che ti sei che sei stato così attivo stasera grazie a tutti i nostri soci collegati che salutiamo caramente mandiamo tanti tanti baci abbracci grazie Feliciano che ci prevede grazie a tutti state bene buone cose arrivederci a tutti grazie mille grazie a voi auguri grazie a tutti